Dall'inizio della legislatura, al 31 dicembre 2013, sono stati presentati in Consiglio regionale 1.159 ordini del giorno, la maggior parte dei quali, 342 approvati, 252 respinti, 106 ritirati, è passata al baglio dell'Aula e delle commissioni. È quanto emerge dal monitoraggio degli ordini del giorno e delle mozioni per verificare lo stato di attuazione dei cosiddetti atti di indirizzo, reperibile online nella sezione pubblicazioni del laboratorio giuridico dell'Assemblea regionale.